Grazie, Presidente. Sono molto orgoglioso di poter esprimere il mio voto di piena fiducia. Sì, fiducia, quel sentimento di tranquillità e sicurezza che hanno i figli verso il babbo e la mamma, gli studenti verso gli insegnanti, gli atleti verso l'allenatore, sei milioni di elettori verso la Lega e noi verso di voi. Fiducia nel contratto di governo, che contiene diversi e qualificati punti di programma, che io voglio soffermarmi su alcuni di essi. Fiducio in politica estera, giusto essere parte integrante dell'Alleanza Atlantica, avendo rapporto preferenziale con gli Stati Uniti d'America. Proprio recentemente ho partecipato presso il cimitero americano di Firenze ad un toccante commemorazione in ricordo di tanti giovani americani che si sono immolati in una terra lontana per restituirci il bene fondamentale della libertà. Quando vedi migliaia di croci bianchi su una distesa verde e pensi a quali sogni avrebbero realizzato se non fossero caduti per noi, devi soltanto dire grazie. Nel col tempo, però, fiducia nel rapporto con la Federazione russa, partner di assoluta elevatura. Mettere l'embargo ad uno Stato che riconosce il referendum del 2014, dove il 97% del popolo di Crimea ha deciso di far parte della Federazione russa con un grosso danni alle imprese italiane non è comprensibile. Le sanzioni le mettono i politici, ma a pagarne il prezzo sono le imprese e i cittadini. Le frontiere sono sempre cambiate nei secoli. Cambiarle con un voto, con la volontà di un popolo senza guerre, è una grande conquista per l'umanità, il principio di attoderminazione dei popoli. Europa sì, ma diversa, dove il ruolo del Parlamento sia rafforzato. Fiducia in tema di politica fiscale, per disegnare un nuovo fisco serio ed eco, passando da un'immediata pace fiscale per arrivare ad un'aliquota unica, dove si premia il merito, la voglia di produrre, dove la rassinazione del popolo delle partite IVE, che oggi si sente come un criceto su una ruota, che gira senza mai potersi fermare per pagare spese e tassi, si trasformi in un sogno di poter realizzare i propri desideri. Pace fiscale per evitare altri suicidi di imprenditori che, distrutti dal dolore di perdere l'azienda in cui hanno lottato, preferiscono erronamente togliersi la vita per non vedersi sottratto tutto. E a loro va il mio pensiero. Fiducia in un governo che difende chi produce. Fiducia in un governo che istituisce un ministro che si occupa delle problematiche dei disabili, una tematica che mi ha spinto a depositare la mia prima proposta di legge. Fiducia in un governo che si impegna per difendere una maggior difesa dei propri cittadini. Mi è difficile spiegare a mia figlia di quattro anni che oggi in Italia non si possa difendere in casa chi è vittima deve risarcire un latitante. Pazzesco ed incredibile. Ricordo l'intelligentissima proposta di potersi difendere solo di notte. Fortunatamente non è passata. Fiducia in un governo che valorizza le forze dell'ordine, nell'adempimento del proprio lavoro. Non è semplice quando si viene aggrediti da violenti in pochi secondi. Stabilire quali sia il grado di reazione legittima. Facile stabilire la mente fredda senza emozioni. Un pensiero a tutte le forze dell'ordine. Ed infine fiducia ad un governo che pensa a una maggiore autonomia in base all'articolo 16 della Costituzione, nella speranza di vedere un paese federale e presidenziale. Fiducia e termino in un governo che pensa prima di tutto al popolo italiano. Grazie. Grazie senatore Lescovi. E' scritto ora parlare il senatore Piccini.